Ho deciso di condurre un'operazione militare speciale. Delle esplosioni sono state udite in molte città dell'Ucraina. Stiamo imponendo la legge marziale. Insieme ai nostri alleati adesso stiamo applicando potenti sanzioni economiche. L'obiettivo è di proteggere le persone che sono state vessate e soggette a genocidio. Questa è la nostra terra, il nostro paese, i nostri bambini. Punteremo alla denazificazione dell'Ucraina. Noi siamo pronti, noi siamo uniti. Ordino di mettere le forze di deterrenza nucleare. Urlate dai vostri governi, andate in strada e dite che volete vivere, che volete stare sulla terra senza contaminazione di radiazioni. Le radiazioni non hanno i confini.